Ciao! Ti starai chiedendo cosa vedrai in questo video? Beh, oggi vogliamo parlarti delle opportunità che vogliamo offrierti con i servizi di OSU Online. Per cominciare, conoscere già i nostri servizi web. Come già saprai, infatti, attualmente abbiamo un nostro sito internet, tutto dedicato all'oratorio. Abbiamo anche un'area riservata ai negatori e una è riservata esclusivamente ai genitori per iscrivere i propri figli al GREST. Ultima opportunità web, ma non certo meno importante, è quella di poter rinnovare i testamenti completamente online. Tutte queste funzioni, però, non possono certo essere spiegate così, alla veloce. Occorre un video per ciascuna di esse e tranquillo, non tarderà ad arrivare. Forse la cosa ti stupirà, o forse no. Comunque, siamo fieri di ricordarti che nel nostro oratorio c'è la possibilità di connettersi ad internet gratuitamente, grazie al nostro wifi, in tutta sicurezza. Ovviamente, abbiamo pensato ad una protezione che permetta di stare in guardia contro siti particolarmente fuori luogo o pericolosi. Chiaro è, però, che nessuno potrà mai proteggere i tuoi figli meglio di te. Se lo ritieni opportuno, controllalo tu stesso mentre naviga. Per connettersi al wifi, non devi fare altro che scansionare un QR, nel caso tu voglia connetterti con uno smartphone, oppure rivolgerti allo staff per connetterti da PC. Se vuoi rimanere a conoscenza degli eventi più rilevanti, non temere. Abbiamo pensato ad un servizio email che ti consentirà di ricevere tutti gli aggiornamenti. Stiamo realizzando, pian piano, un sistema che ti consentirà di non dover più fare alcuna fila per qualsiasi voglia di iscrizione o passamento di quota. Ma come in ogni percorso, la strada è lunga e occorre procedere con cautela. Tutto ciò sarà favorito anche dalla partnership attiva con PayPal. Grazie a questo servizio, infatti, potremo trasferire i soldi in tutta sicurezza, senza fila e senza pericoli, semplicemente online. Altro punto essenziale ed immancabile tra i servizi online offerti sono i nostri numerosissimi profili social. Conoscerai certamente le nostre pagine Facebook ed Instagram. E, visto che sei qui, anche il nostro canale YouTube, a cui sicuramente sarai già iscritto, starai per farlo. Su queste pagine pubblichiamo tutti gli aggiornamenti possibili, sempre. Su YouTube non perdiamo occasione di caricare video con annunci o tutorial come questo, a cui ovviamente avrai già lasciato un like. O lo stai facendo proprio adesso. Magari, però, sarai un po' confuso sulle nostre altre pagine social. Se vuoi porgerci una domanda, puoi sentirti libero di farlo. Oltre che su Instagram, su Facebook e ovviamente dal vivo, anche su WhatsApp. Riceverai una risposta quanto prima. Abbiamo poi una pagina Twitter tutta per noi. Se sei attivo su questo social, vola a seguirci. Riceverai aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi dei nostri servizi online. Sì, proprio quelli di cui stiamo parlando in questo video. E se vuoi, non ti nascondiamo alla nostra pagina Patreon. Il supporto è sempre ben accetto. Ultima piccola cosa riguarda il futuro di tutti questi servizi. Sì, perché oltre al pacchetto illustrato finora, insieme ad un contatto telefonico da poter chiamare per dubbi o chiarimenti, avrai, nei prossimi anni, un servizio di notifiche tramite SMS, un'app per gestire le cose che normalmente faresti online più comodamente, ed infine, un bracciale per poter tenere al sicuro i soldi del tuo piccolo durante il Grest. Speriamo che questo video ti sia stato utile e che tu voglia supportarci. Intanto, grazie per l'attenzione e la pazienza. Non dimenticare di iscriverti al canale. Attivare la campanella delle notifiche. E se il video ti è piaciuto, non ti lasciare un bel like. E vieni a trovarci anche sugli altri profili social. Grazie a tutti.